Signore e signori, giovedì 30 aprile 2009, Cagnari, questo è lo Tsunami Club, questa notte una notte che lascerà il segno, una notte che entrerà nella storia, chi ha sempre visto più lontano degli altri, chi è sempre stato davanti a tutti, da questo momento in console, fu un definizio di chi ho fatto la house music, SISTER FLETCHI NACIO! SISTER FLETCHI NACIO SISTER FLETCHI NACIO! SISTER FLETCHI NACIO! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.